Cari concittadini, buongiorno, ben ritrovati su questo canale di aggiornamento. Spero che abbiate passato un augosto sereno delle ferie godibili, proprio in relazione alle tante fatiche di tutti noi in un lungo anno di lavoro. Siamo in questa sede, dietro di me c'è questo nuovo spazio che è stato creato, organizzato dal nostro personale della biblioteca, della biblioteca comunale. Uno spazio all'aperto, adesso diventa ancora più fruibile, ci auguriamo in relazione all'abbassamento delle temperature per permettere a tutti noi di poter leggere e passare dei momenti piacevoli all'esterno dell'area della nostra biblioteca comunale. Noi crediamo, lo sappiamo insomma, lo sapete, crediamo fortemente nel valore della cultura come una leva di crescita per tutti noi, individuale, collettiva, di progresso, vero e proprio, della società. E quindi crediamo che questi luoghi possano rappresentare un vero e proprio humus per permettere a tutti noi di poter riflettere, di poter conoscere, di poter leggere, passare momenti sereni che possono allungare i nostri tempi e ci permettono di vivere meglio. Quindi questo rientra, seppur un piccolo intervento, ma significativo e grande per tutti noi che va nella direzione di migliorare questi spazi, questi spazi della cultura nella nostra bella San Vito. Un ringraziamento particolare va ovviamente all'assessore Brucia, a tutta l'area della vitalità e della cultura di San Vito per essere sempre molto attenti a questi aspetti, soprattutto legati alla nostra biblioteca civica. Un ringraziamento naturalmente va a Monica Beltrame per il grande lavoro che porta avanti nella nostra biblioteca insieme ai nostri collaboratori. In questi giorni, come molti di voi sanno, sono in corso i lavori di riqualificazione dei porfidi del nostro centro storico. Sicuramente lavori importanti di riqualificazione, di grande valorizzazione, rivalorizzazione delle arterie, delle vie del nostro centro storico nella logica di abbellirle per tutti noi, ma soprattutto anche per quanto riguarda la nostra vocazione dell'accoglienza, la vocazione turistica, con dei ovviamente fisiologici disagi per i quali ci scusiamo in anticipo, è nostra cura trasmettere attraverso i nostri canali tutte le ordinanze e tutte le informazioni che possono aiutare tutti noi, soprattutto i residenti, le attività commerciali a potersi organizzare rispetto alle chiusure parziali o totali temporane. E quindi oggi siamo qua ad aggiornarci un po' rispetto ai lavori che vengono portati avanti. Sono stati conclusi i lavori di piazzale Girone, del Ponticello, verso via Patriarcato, piazzale Linteris. Sono in corso i lavori in via Marconi, in via Dante, insieme anche agli attraversamenti di via Dante. Successivamente interverremo per il marciapiede del Bossoli in via Fabrici. Dal 9 al 12, prendete queste date indicative con beneficio di inventario perché ci possono essere ovviamente in relazione al tempo e altri aspetti delle modifiche, dal 9 al 12 settembre sarà chiusa via Altan per i lavori del Ponticello presso la Torre Grimana e poi dal 12 in poi via Altan, la via complessiva, via Bellunello e via Cesarini e via Delfino all'esterno del centro storico perché ci sono tutta una serie di aree con delle insidi e insomma con delle situazioni che meritano un intervento di riqualificazione. Vi invito ovviamente a seguire gli aggiornamenti delle nostre ordinanze che pubblicheremo con la maggiore tempestività possibile sui nostri canali, sul nostro sito e proprio per appunto poter affrontare quei disagi temporanei legati ai cantieri. I cantieri comunque molto importanti, ci sentiamo di ringraziare tutti coloro che stanno lavorando soprattutto con queste temperature particolarmente elevate, quindi tutte le maestranze in particolare ma anche chi sta organizzando i lavori, il nostro ufficio tecnico, l'architetto Gianluca Maiarelli, il geometra Antonio Francescutto, l'assessore Mauro De Fenne e tutti coloro insomma che ci stanno dando una mano per questo tipo di intervento che vale 160 mila euro di investimento che come amministrazione comunale abbiamo voluto realizzare e programmare nella nostra, nel nostro centro e non solo come abbiamo detto. Continuano anche i lavori di riqualificazione legati alle asfaltature. Lunedì partiranno i lavori attesi e già annunciati da parte dell'amministrazione presso il parcheggio Falcon Vial, seguiranno poi interventi in località Sant'Urbano, in via Oberdan, in via Bagnarola e in via Tomadino nella continuazione della pista ciclabile adiacente al parcheggio Ciani. Quindi sono interventi già programmati, già finanziati da tempo che adesso vedranno finalmente la luce con i cantieri. Ieri poi la giunta, nella seduta di ieri, ha stanziato ulteriori risorse per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, lo sport in particolare, legati anche alla programmazione della cittadela dello sport che conoscete già. Abbiamo stanziato ulteriori 35 mila euro per la struttura del tennis, l'area ricreativa in la clubhouse, così come viene definita appunto nell'area del tennis, ulteriori 35 mila euro per la riqualificazione di questi immobili che si sommano ai 360 mila euro già stanziati da tempo per i campi da paddle che vedranno la luce a seguito dell'approvazione in giunta della cittadella dello sport. Ovviamente l'approvazione del progetto del Masterplan prevede l'organizzazione degli spazi e quindi l'organizzazione è così intesa anche perché naturalmente ci sono i vari equilibri tra le varie attività sportive anche diverse tra di loro che andavano incastrate con una progettualità, andavano coordinate con una progettualità e quindi a fronte dell'approvazione del progetto del Masterplan della cittadella possiamo avviare gli appalti e conseguentemente la realizzazione appunto anche dei campi da paddle per i quali da tempo abbiamo stanziato più di 360 mila euro, quindi interventi importanti che si sommano agli oltre 800 mila euro di investimenti proprio nell'area dello sport, nei nostri impianti sportivi. Sempre nella giunta di ieri abbiamo approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di completamento sismico della scuola Amalteo, anche questo per noi rappresenta una direttrice importante, l'istruzione, l'edilizia scolastica e abbiamo stanziato, abbiamo approvato il progetto per permetterci di intercettare le risorse che ammontano ad oltre 500 mila euro appunto per rendere ancora più sicura, soprattutto dal punto di vista sismico, la nostra scuola media Amalteo di Ligugnana, quindi continuiamo anche con gli investimenti per quanto riguarda l'edilizia scolastica. Per quanto riguarda invece la vitalità di San Vito, gli eventi, anche questo fine settimana abbiamo diversi eventi, partiamo con questa sera alle ore 21, a tutto si pari, in Piazzetta Stato, una commedia esilarante, Buon Natale è il titolo, con la compagnia Associazione Culturale Luci della Ribalta di Bolzano, biglietti 5 euro acquistabili presso il punto Iato, al botteghino la sera dello spettacolo. Un ringraziamento alla compagnia Estragone per organizzare gli eventi del teatro d'estate, ma per essere sempre al nostro fianco per quanto riguarda la promozione del teatro a San Vito. Continuano gli eventi alla Sagra di Prodolone, abbiamo annunciato, come sapete, insieme al Presidente, abbiamo illustrato l'ampia programmazione di quest'anno, di questa straordinaria Sagra che valorizza molto la nostra cittadina, in Via Madonna, a Prodolone, presso le scuole, come sappiamo, alle ore 19.30 aperitivo e selezione musicale by Tex, ma soprattutto alle ore 21.30 i Broccoletti Pop, che già conosciamo, non già suonato a San Vito ad Incanto di Natale, adesso si esibiranno alla Sagra di Prodolone. Domani, sabato 31 agosto, sempre alla Sagra di Prodolone, all'ora 19.30 l'aperitivo con Talboy Selecta, Vibras de Cuba e all'ora 21.30 Toys Planet Queen. Domenica, primo settembre, sarà presente in Piazza del Popolo il mercatino dell'antiquariato a cura della nostra Proloco. All'ora 18 al Teatro Rigoni sono nato a 78 anni, un'incredibile vera storia, la lettura teatrale tratta da una storia vera, a cura dell'associazione il Noce ad ingresso libero. Alle 20.30 a Prodolone l'esibizione Oasi Dance e Fitness e alle 21.30 Abba Dream Tribute. Mentre per quanto riguarda le nostre mostre è aperta la mostra qua nella chiesetta di San Lorenzo, la mostra Genius Loci di Vincenzo Labellarte in collaborazione con il Craft di Spilimbergo, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30, dalle 15.30 alle 19.00. Ricordiamo la settimana prossima degli eventi importantissimi, molto richiesti, per i quali molti biglietti sono già stati venduti, quindi ci aspettiamo un'ampia affluenza per quanto riguarda la programmazione di San Vito a cielo aperto. Venerdì 6 Giovanni Vernia con la stand-up comedy live a San Vito Tagliamento, lo spettacolo comico all'ora 21 in Piazza del Popolo, i biglietti sono in vendita su Ticket One e poi sabato 7, il grande evento di chiusura della stagione estiva nella nostra cittadina, il grandissimo Roberto Vecchioni, tra silenzio e tuono tour. L'ora 21 in Piazza del Popolo, sono ancora disponibili gli ultimi biglietti in vendita su Ticket One e i posti in piedi in fondo alla piazza, un grande evento che crediamo farà la storia della musica qua a San Vito e non vediamo l'ora di conoscere e godere di questo stagione spettacolo di Roberto Vecchioni che coglieremo con grande orgoglio nella nostra cittadina. Grazie e buon fine settimana a tutti! Grazie